Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. La Regione Campania e l'ANAS SPA hanno ufficialmente esiglato un accordo di gestione per la riqualificazione e rifacimento, l'ammodernamento e la costruzione di nuovi assi viari per un costo che supera il miliardo di euro. Nell'intesa è prevista anche la programmazione della manutenzione straordinaria delle strade per 112 milioni di euro. Una buona notizia questa per i sindaci della costiera amalfitana che ieri sono stati ricevuti a Palazzo Santa Lucia dal presidente De Luca per mettere a punto diversi interventi e progetti dedicati al miglioramento della mobilità lungo la caratteristica strada statale 163 amalfitana. Firmato il protocollo d'intesa anche per il progetto della funivia che collegherà l'agronocerino sarnese alla costa d'Amalfi, toccando tre punti strategici, Angri, Tramonti e Maiori. Si arricchisce dunque il protocollo d'intesa del 2 agosto del 2017, che in regione Campania ha visto la partecipazione dei comuni di Agero, la Amalfi, Cetara, Minori, Ravello e Scala, la provincia di Salerno e l'Acamir, l'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, per l'attivazione delle azioni finalizzate all'attuazione del programma di interventi di mobilità sostenibile nelle costiere Amalfitana e Sorrentina. Ed ancora, secondo gli accordi, dovrebbero essere finanziati, oltre ad altri interventi minori, anche il tunnel tra Maiori e Minori, il parcheggio in roccia da 360 posti auto all'altezza dell'Hotel Cetus nel comune di Cetara e la progettazione della zona a traffico limitato di tipo territoriale per il contingentamento del traffico sulla statale 163 Amalfitana.